non posso salvarlo fermatevi scappa se ci riesci che due ragazzo Parametri vitali assenti. Quante notte io ci vedo. 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 Quanti notte io ci vedo. Quante notte io ci vedo. Quante notte io ci vedo. Pronto 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 Ancora staglio colpito stai stimando avete rotto il cazzo mi andava a fa culo figlio di puttana questa è già in missione mi gioio a te è sicuro? perché? non vedi se ti fa gioinare non lo so mondo 1 mondo 1 o quale sarebbe? quando hai finito il gioco ti invadono la partita vediamo se mi fa fa nuovo agente il tuo gruppo quindi mi stai dicendo io che non ho finito il gioco mentre mi faranno il culo ma cacolo farlo il culo a me comunque è buona strada perché praticamente hanno le stesse cose che c'è dei groni le torrette che è affro affro roni in azione il nemico è stato vittù a quanto pare mi ha fatto qui quindi si deve quindi vabbè muoviamo quattro qui segni vitali critici ahhh ahhh Vabbè, oh! Bene, mi saranno delle torrette! Ehi, mi sa che io mi non capo più tanto, eh! Dovrebbe essere morto! Eh, per fare le capite, sì! Ecco, ma... Però quindi questo mondo qui dovrebbe dare più cose, diciamo, più potenti, più potenti, più... ...migliore equipaggiamento... Ah, ok! Ok! Conteggio qui per diventare troppo basso, conteggio per diventare la prossima roccaforte, devo trovare... Ah, pure! E sta a dire che... Dice che sono lì, vabbè! Ancela! Atta aere! Atta aere! Oh Ah, meno male che Se la ciaffiamo Gli evoca sti così in culo, me la metto Eh, guarda All'inizio All'inizio non ti darò perchè la ciaffiamo Quando mi era una gran Buongiorno, buongiorno Carrone decollato Ah, è un altro Ma non sta Ah Ah Tu puoi andare a scatare Ancora All'inizio All'inizio E' un ritmo sostenutissimo C'è un ritmo sostenutissimo C'è spingere Poi puoi spingere Eh si ma poi l'inculato E' che c'hanno le stesse armi che c'hai Praticamente tu, quindi Come te vuoi te fottono se te sbagli eh Eh, ma soprattutto C'è un ritmo serrato Non ti fanno respirare Poi vedere che mi hanno Sembra aver preoccupato qualche cazzo Non ti fanno E' un ritmo Non ti fanno E' un ritmo E' un ritmo Vabbè la calca Dai Forza Dai, entra dentro Che fanno, scendiamo? Che c'è? Ah ma c'hai una terza arma quando sblocchi quando finisce il gioco? Sì, c'hai la cosa della categoria Ma tu hai solo aggiunto il level cap oppure hai proprio finito il gioco? Che senso? No, no, ho finito il gioco Ho finito il gioco e lui mi ha detto E te parte il firmato E te ci stanno sti rotti in pulli Che arrivano e te invadono No, perché io Ho ancora un po' di missioni da fare Per finire il gioco Oh, no, 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 no Grazie a tutti. Posso continuare tutto? Fatevi vedere. Oh, quando voglio sono pronto, eh? Io sto aspettando che tirano fuori dai capocci questi stronzi. Ah, va l'unica? Non è partito! Non è partito! Isha! Che spieghi! Un po' di copertura! Altro centro! Uomo a terra! Uomo a terra! Sono in grappola! Sono dei nostri, si è fatto venire! Nemico località! Ah, ah, dovremmo averli cercati tutti! Dai, c'è il gatto con raffreddore! Vieni dentro! Nicia! Vieni dentro! C'è il gatto con raffreddore? C'è il gatto che sta stando lì come un rinoceronte! Spessualé! Capo! Spettone! Spettone! Vorrei te rockiste! Camb ini! Non favour! eh non c'è pazzo non è qua invece c'è un raffreddo di questa strada non taglio il flu ahhh mi sa che devo uscendere per le scale no poi sei pronto? e sta vai avanziamo merda via i droni vengono un altro ed è pottuto ahhh teneteli è gestato questa corazzata da vista ah fa prova a spaccagliela eh? ma non credo che che cazzo sta? no eh sta qua davanti a me beccati aia è gustato sto rilevato è mica morto sto stronzo eh ho trovato il nemico un obiettivo fallito eh c'era un tempo limite c'era un tempo limite ma l'ho visto ma l'ho visto vedetti ebbè io me ne sono accorto me ne sono accorto alla fine quando è diventato rosso hai detti siiii beh un minuto e trenta un minuto e trenta per fare tutto che sei? che sto che sto oh oh spara a te mi merda oh a te ahhh bastardo oh stil a 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 f volevano accedere al database shade spero pur gli abbia fermati in tempo spiacente di interlocchi ma arriva un altro Helicoctero rinforzi black task che sta arrivando? è un mazzo tanto è arrivato gli inforzi quindi mi sa che dovremmo si dovremmo andare proprio incontro non ho capito il senso di andare incontro quando sai che ti fanno il culo aspetta aspetta ma io fossi qualcosa sono danno al dito sei ah guarda che posto che è che cazzo è quel coso? ma è quello che cazzo? Fai ad un gioco! non c'ha neri meccano, non hai torre a crese movibili ma sono solo in me stanno mi ammazzacrando Grazie a tutti. 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 Sì, ti è assoluto che mi è morto. Tu devi cominciare quando pubblichi i video, non ci devi mettere i due metri centino su YouTube, sennò la gente non è attratta. Può essere sì, sicuramente. Non guarda, non vota, no, non è attratta. Non guarda, non guarda, non guarda, non guarda. In azione! Colpitelo, forza! Appare che i Black Sands abbiano conquistato la vecchia roccaforte delle Iene. Possiamo lasciare che si accomodi, non c'è di appena poi. Che si fa più? Oh! Ehi, questa cosa, questa armi raggiatore. Questa che mi ha droppato una cassa maestria, vediamo che c'è stava, va. Mi sa che ci metta la p***a. guarda, non c'è stava iniziare a scuola e non c'è stata la vado a scuola. Questa è la fuga hyperline che ho lasciato, vediamo un po'. E le simpatiche girocchiere! Non facciamo pace di battito. Guarda, 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 un fugile da cecchino da 16.000! Venga male, frammento di chiave grassabili e pure un paio di guanti. Bene! Allora vedremo un po' il fucile da cecchino, poi ce lo piazziamo subito qua. 16.000 da cecchino. Ok, beccate questa! Quinesimo fucilato a pompa! 4.000 da cecchino! 4.000 da cecchino! Sì, a parte del fucile che il piazzato è giusto! Sì, come si sopra! porti sbloccate come cazzo funziona? ma i mod li puoi mettere praticamente solo sullo zaino le mod? eh perchè i guanti e altre cose non li puoi modificare dipende, dipende da ok io ho trovato soltanto sullo zaino sono riuscito a mettere le mod oppure sulle armi le puoi mettere si, quelle lì quelle lì che prende non so quelle le mod di sistema tipo quello che dà danni per cento in più arma danni per... oppure gittata non quello alle armi quelle che trovi che non sono armi che sono mod dà che so è che tocca a nasa che già sta sti bastardi sta battuglia aspetta vai arrivo a 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 pronti razioni vicine razioni vicine razioni vicine a 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 mascherati una posizione vicina sorvegliata da ostili a a a a a a a a pericolosa rilevata che figo l'ho battuglia lì a 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 posizione vicina sorvegliata da ostili a 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 accesso deposito rifornimenti sbloccato a 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 andiamo a vedere cosa ci riserva questo deposito partizio a 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 un po' a un po' che ci ha droppato salve 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 una bella parlata una bella parlata qui noi siamo sempre noi siamo sempre noi siamo i gremini di i forum di gente che di l'altro poi io li faccio la testimonio no? vabbè la gente che vuole comprare qualcosa eh no perchè claudia almeno usa quei testori capito vabbè io che sto qua a giocare con te e eh fatima ah ciao scandalo ciao è veramente uno scandalo comunque come questo che lo lasci dentro casa così va bene va bene va bene lasa lústio lasa lústio ma altrettanto buon fine settimana casomai se becca domani eventualmente va bene va bene va bene va bene ciao 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 hai lasciato un gruppo ciao agente richiede supporto razioni vicine molto gentile da parte tua agente che cazzo stanno a fare sti ragazzini a demolire palazzo vedo personale e veicoli blacktask intorno al perimetro hanno delle sentinelle all'ingresso principale ah agnese ah agnese mani